ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sarà un video diverso dal solito praticamente è arrivato questo pacco regalo e me lo ha regalato simo simi che è una mia fan una mia iscritta e mi ha chiesto se avrei accettato un regalo le ho detto di sì e mi ha fatto spedire questo re e questo pacco da natalia che ha il come si dice un profilo su facebook che si chiama come si chiama aspetta fimo lala vi lascio poi il link del suo del suo negozio su facebook sotto nell'info box ringrazio infinitamente simo non mi aspettavo un pacco così grande vediamo cosa c'è dentro a queste cose qui rosa le ho messo io per nascondere i nostri indirizzi e adesso scusate ho distrutto tutto e adesso andiamo ad aprire il pacchetto vediamo come posso fare ad aprirlo userò questo ma vediamo è stato semplice wow è molto tagliente guardate come si presenta c'è un sacco di polistirolo che io adoro e andiamo a vedere cosa c'è dentro mamma mia è pieno pieno cosa c'è oh guardate grazie di tutto simona che carina grazie simo guardate che bello il fuoristirolo è troppo bello ok togliamolo di mezzo perché sennò non la smetto più di fare la scema vediamo cos'è sembra qualcosa di tipo resina oddio ho capito cos'è oddio oddio provo ad aprire make ecco sto cercando di aprire oh mio dio è ciò che penso si è ciò che penso guardate cos'è let's pack stop per fare gli squishy simo grazie apriamolo simo sono felicissima grazie guardate che bella oh mio dio adesso mi servono gli stampi per fare gli squishy guardate che carino mamma mia che sono contenta sono sono veramente felicissima non puoi capire quanto guarda che carino pure il bigliettino non ho parole credimi non so cosa dirti cioè sono veramente felicissima di questo tuo regalo e sicuramente appena farò uno squishy c'è sicuramente farò il tutorial per fare lo squishy prima devo provarla perché non l'ho mai mai vista giuro devo guardare anch'io un tutorial per vedere come si fa e il primo squishy ti prometto che farò è tuo il primo è tuo sicuramente ci ringrazio tantissimo veramente per questo regalo ne non ho parole grazie simo comunque vi volevo dire anche che per chiunque voglia fatto un come si dice una review sono disponibile basta che mi scrivete in privato e recensirò i vostri lavori con tanto piacere bene per questo video è tutto e noi ci sentiamo alla prossima grazie ancora simo ciao